Da pochi giorni per il trattamento dei pazienti con infezione d'HIV è disponibile una nuova combinazione di farmaci riuniti in una sola compressa a base di Bictegravir, un inibitore delle integrasi. Si potrà usare sia nei pazienti già in trattamento sia nei soggetti naiva alla terapia. Ce lo facciamo spiegare da un vero esperto, il dottor Andrea Antinori. Che cosa cambia per i pazienti? L'arrivo di questo nuovo farmaco, parliamo della combinazione in singola compressa di Bictegravir, entricitabina e tenofovir alla finamide, è un grosso passo in avanti perché questo farmaco fa parte della classe degli inibitori delle integrasi, è un farmaco che ha bassissima interazione, un'efficacia molto elevata, sperimentata in molti studi registrativi sia sui pazienti che iniziano la terapia che sui pazienti che cambiano il proprio regime terapeutico in condizioni di viremia già controllata e già soppressa, bassa incidenza di eventi avversi, un farmaco molto flessibile che aggira perfettamente il problema della resistenza perché ha quella che si dice in gergo un'elevata barriera genetica, quindi tutte caratteristiche che ne fanno un prototipo abbastanza universale, molto flessibile nell'utilizzo in varie tipologie di pazienti, si può utilizzare in pazienti avanzati come in pazienti precoci e utile anche nei cosiddetti protocolli di inizio rapido del trattamento, cioè laddove abbiamo bisogno di abbattere rapidamente la viremia o per motivi clinici o anche per motivi legati alla riduzione del rischio di trasmissione, quindi sicuramente un farmaco utile e interessante che vada a affiancarsi ad alti presidi molto validi e potenzia enormemente il nostro armamentario terapeutico. Può incidere anche sulla qualità di vita delle persone con HIV? Sì, questo è un aspetto molto importante perché molte delle nuove terapie, proprio perché caratterizzate da questa elevata efficacia, ma soprattutto dalla relativa assenza di effetti collaterali e dalla elevata tollerabilità, possono avere dei risvolti e degli impatti molto favorevoli sulla qualità di vita o quelli che vengono definiti sugli outcome riportati dai pazienti. Questa è una nuova frontiera importante. Oggi si vanno a misurare anche lo stato di benessere con scale, con altri sistemi, perché la percezione soggettiva dello stato di salute da parte del paziente, del proprio benessere, l'assenza di sintomi e altro, è qualcosa di molto rilevante che va a affiancarsi come misura di outcome, come si dice in gergo, come misura di efficacia accanto all'abbattimento della carica virale, al ricopero immunologico, che sono classiche misure con cui noi verifichiamo l'efficacia delle terapie. È una nuova frontiera importante in medicina, non solo in terapia antiretrovirale, però in terapia antiretrovirale farmaci di nuova generazione, come per esempio il Big Tegra, vi hanno mostrato risultati molto interessanti da questo punto di vista, che ne aumentano e ne amplificano la rilevanza clinica. Quali sono invece le sfide future che ci attendono nell'ambito dell'HIV? Le sfide future, direi più importante, la grande sfida sarebbe quella della cosiddetta cura funzionale, cioè quella di arrivare a una soluzione che consenta di poter sospendere le terapie in sicurezza, cosa che oggi non è ancora possibile fare, dobbiamo dirlo chiaramente, le terapie oggi non si possono sospendere, vanno continuate per tutta la vita. La strategia ideale sarebbe quella di poter trattare i pazienti con protocolli combinati, antiretrovirale ed altri farmaci, in modo tale da poter sospendere le terapie e consentire all'organismo di poter spontaneamente controllare la replicazione virale. Questa è una prospettiva, una prospettiva oggi non realizzabile clinicamente, dobbiamo essere onesti a dirlo, ma su cui si sta facendo tantissima ricerca. Un'altra strada molto importante è quella della prevenzione, cioè utilizzare i farmaci a fini preventivi. Questo si può fare in molti modi, si può fare trattando i soggetti infetti e abbattere rapidamente la viremia in modo tale da garantire che non possano trasmettere, perché oggi dobbiamo dirlo, grande messaggio importante, chi ha una viremia controllata dalla terapia non trasmette l'infezione, non è più contagioso, quindi non può più trasmettere l'infezione. La circolazione del virus si può bloccare anche in questo modo. Altra risorsa è quella della profilassi preesposizione, cioè dare profilassi a pazienti che sono ad alto rischio di poter acquisire, siero negativi che possono acquisire l'infezione, che hanno rapporti non protetti ad alto rischio e che attraverso la PrEP, come si dice in gergo, possono ridurre fortemente il loro rischio di contagiarsi. Quindi queste strategie, a cui si vanno ad aggiungere strategie ancora più di lungo periodo, su cui aspettiamo importanti risultati della ricerca, come le vaccinazioni preventive, possono variamente combinare affinché si possa dominare su scala globale il problema dell'HIV.